Ho smaltito dopo qualche ora le emozioni del caso, gol del Sharawi nel finale, Roma ha vinto 1-0 ai danni del Monza, una squadra che arriverà sicuramente nella parte sinistra della classifica che ci stava sopra e sono tre punti fondamentali per risalire in classifica, quarta vittoria consecutiva, una Roma che mano mano sta tornando dove deve stare perché questa è la nostra dimensione e non mi voglio fermare qui perché queste quattro vittorie consecutive devono darci la forza, l'inerzia di andare a prenderci l'egemonia sul girone nella gara contro lo Slavia Prague e andare a Milano con un approccio importante alla partita perché è fondamentale, non possiamo sbagliare, la gara di Milano sarà determinante per il nostro cammino ed è una Roma che deve andare a Milano per vincere, in primis perché siamo la Roma e non dobbiamo avere paura di nessuno, poi per la situazione della classifica perché una vittoria sarebbe devastante ma parliamo dell'attualità e il Sharawi è un calciatore fondamentale per questa Roma, contentissimo sia rimasto, contentissimo di quel che ha dato e che sta dando per questa maglia perché è un calciatore tanto legato ai colori giallorossi noi siamo tanti legati, tanto legati a lui, uno dei tanti gol realizzati nel finale, la corsa verso la curva sud, che giocatore tra l'altro poi tante persone dicono no, il Sharawi deve giocare sempre, titolare fisso di questa Roma, io sono contento invece che si faccia, che si prenda la scena di questi meravigliosi gol nel finale di entrate dalla panchina importante alla partita che poi con un calciatore come lui, così veloce, rapido, bravo tecnicamente, te la cambia, ti cambia la partita in corso e secondo me è come deve essere utilizzato, ok, dalla panchina il Sharawi è determinante, perciò sono contentissimo è stata una partita veramente molto complicata perché come detto il Monza è una buona squadra che finirà sicuramente nella parte sinistra della classifica una squadra organizzata, una squadra che subisce poco, una squadra che ha fatto un buon cammino fino a questo momento ci stava sopra in classifica, perciò non era assolutamente scontata, anzi molti hanno sottovalutato la difficoltà della partita io sapevo che sarebbe stata molto tirata e il gol nel finale ne è la testimonianza, nonostante la superiorità numerica ci riduciamo a segnare al novantesimo minuto, nel primo tempo abbiamo visto una partita complicata perché il Monza nella prima parte soprattutto già schiacciati con il loro giropalla, possesso palla importante, così proprio come l'aveva preparata Palladino che è un allenatore che stimo tanto, però la Roma organizzata, corta, compatta, non lascia occasione a desiderare anzi il Monza non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso, anzi è la Roma che crea le più grandi chance in particolare quella di Auar con un colpo di testa e la clamorosa parata da parte di Di Gregorio che è un portiere che secondo me merita veramente più chance, anche in nazionale merita sicuramente più crediti perché è un portiere di assoluto livello e anche oggi lo ha dimostrato salvando il Monza in diverse circostanze poi la Roma è stata anche molto sfortunata perché colpiamo il legno con Asmun, l'altro palo con Lukaku che oggi si è stato un po' appannato però secondo me si è mosso bene come sempre ha fatto valere il suo fisico, ha portato avanti la squadra e con le sue conclusioni è sempre pericoloso e le rende sempre pericolose in qualsiasi circostanza, insomma il Monza ha tenuto veramente bene il campo finché si trovava in parità numerica, poi l'espulsione al quarantesimo minuto per doppio giallo di D'Ambrosio che ha un po' compromesso la gara di Palladino e non so se il Monza poi la sarebbe andata a perdere questa partita fatto sta che il Rosso è giusto, doppia ammunizione e la Roma nel secondo tempo giustamente si è buttata in avanti ha dominato, ha tirato tante volte verso la porta avversaria e facendo un grande secondo tempo poi metti dentro calciatori offensivi, non a caso entra Asmun che si fa valere, prende il palo, fa l'assist insomma tanta roba, l'assist addirittura per il palo se non sbaglio proprio di Romelu Lukaku il fatto sta che riesci ad importi nella metà campo avversaria, giocando il pallone, facendolo girare creando occasioni da gol, è rischiato, è rischiato perché poi subisci quelle 2-3 ripartenze da parte del Monza molto pericolose, veloci a ripartire, bravo Colpani, un Monza, una squadra come detto molto organizzata gli devo dare tanto onore perché oggi hanno tenuto alla grande il pareggio praticamente fino al novantesimo minuto quindi onore a loro, una squadra molto ostica, una realtà del calcio italiano ormai da anni e insomma fatichiamo, fatichiamo perché si, spingiamo, mettiamo dentro calciatori offensivi ed era inevitabile che la Roma avrebbe sicuramente spinto di più vista la superiorità numerica ma soprattutto il dovere di vincere questa partita e poi arriva dopo i due legni la rete di Stefan e il Sharawi al novantesimo minuto tra l'altro oltre che voluto su questa palla lì veramente una coordinazione perfetta una scanna di incrociare un gol veramente straordinario e importante importante perché oggi contavano solamente i tre punti e sono arrivati andiamo a quota 14 quindi superiamo lo stesso Monza e ci raffacciamo nelle zone alte della classifica anche perché abbiamo disposto alle vittorie di Lazio, Inter e Napoli insomma, perciò siamo rimaste aggrappate a tutte le altre e sono contentissimo sono veramente contento come detto quarta vittoria consecutiva perciò la Roma sta risalendo piano piano ma non dobbiamo accontentarci perché la partita con l'Inter specie è fondamentale è fondamentale e andiamo a Milano per vincere perché noi non siamo inferiori a nessuno perlomeno non dobbiamo partire con il piede delle giustificazioni si va a Milano per vincere come sempre Mourinho è espulso prima della gara contro l'Inter questa è una roba che va avanti da quando è arrivato a Roma sarà una coincidenza questo non lo so ma non credo proprio fatto sta che oggi è una partita comunque tirata equilibrata la sei andata a vincere nel finale ed è questo quello che contava e noi ci vediamo alla prossima sempre forza grande ciao